Maiko Italia con i marchi elicenti di Nair è oggi un polo industriale di primaria importanza, specializzato nella ventilazione civile, industriale e impiantistica. Presso la sede di Lonato del Garda viene infatti progettata, ingegnerizzata e realizzata l'intera serie di prodotti che vengono poi distribuiti in tutto il mondo. La qualità dell'aria che respiriamo è un fattore assolutamente fondamentale per il comfort abitativo. Ecco perché Maiko Italia si prende cura della realizzazione dei propri prodotti. L'offerta di Maiko Italia Elicent e di Nair nel mondo dell'aspirazione industriale è molto ampia e strutturata. Oltre 45 serie di differenti apparecchi in grado di soddisfare le esigenze impiantistiche sia in ambienti standard che ad esempio in ambienti con atmosfere a rischio di esplosione, Atex o per estrazione fumi in caso di incendio. Maiko Italia con i propri brand Elicent e di Nair si contraddistingue nella produzione di apparecchi per la ventilazione industriale e ad uso terziario. In questo Maiko Italia ha particolare cura nella verifica di ogni dettaglio produttivo e nel rendere disponibili apparecchi funzionali e facili da installare per ogni esigenza e utilizzo, ossia per l'aspirazione a parete, per l'aspirazione a soffitto o per l'aspirazione attraverso le condotte. È un torrino centrifugo per aspirazione verticale che è nato per installazione appunto nei soffitti in copertura dove non è possibile fare l'aspirazione attraverso fori nel muro, così come con la serie per aspirazione sempre a soffitto, ma attraverso le vie verticali. Questa è la serie di prodotti assiali di ultima generazione che sono in linea con tutti i più recenti dettagli normativi di varie forme e soprattutto dimensioni e prestazioni, una gamma con un elevato rapporto qualità-prezzo. La serie di aspiratori per installazione in condotte è un cavallo da battaglia, un prodotto ormai di consolidata esperienza e produzione per Maiko Italia. Un aspiratore centrifugo fa i tanti, in particolare questa serie è quella dedicata per piccole portate, ma non di meno disponiamo anche di serie per medie e alte portate. L'aspirazione civile per Maiko Italia e Leicente di Nair è uno dei capi saldi avendo in questo campo un'esperienza di oltre 50 anni e disponendo di oltre 19 serie differenti di apparecchi. Maiko Italia col proprio brand Leicente contraddistingue la produzione da oltre 50 anni di aspiratori per uso domestico, per installazione in qualsiasi esigenza nel ricambio dell'aria. In particolare la serie E-Style è il top seller di gamma, un aspiratore dalle dimensioni molto contenuto, uno spessore di solo 17 mm, al quale ha affiancato in tempi recenti la serie Elegance, un aspiratore con l'aspirazione perimetrale dall'aspetto gradevole, particolarmente curato appunto da un punto di vista estetico. Ulteriore serie sono gli apparecchi per aspirazione nei condotti, nei quali i propri riferimenti principali sono la serie Radia o la serie Flux, recentemente affiancati anche qui da aspiratori che rientrano nella linea design con l'aspirazione perimetrale, come sono gli apparecchi Elprex o Helix. Maiko Italia con le sue marche Helix Centinale dimostra quindi di essere un'azienda ricca di tecnologie made in Italy e in grado di supportare le richieste di qualsiasi esigenza nel mondo della ventilazione civile industriale. Grazie a tutti.